Come state? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella e iscrivetevi anche al mio canale personale che trovate nel link qui sotto in descrizione, siamo arrivati a 108.000 iscritti, top top top, mi piacerebbe arrivare a 25.000 iscritti sul canale personale che trovate qui sotto nel link in descrizione, ci tengo tanto, così come si possa arrivare a tanti numeri per il video podcast di Marco Van Basten che merita davvero molto. Allora ragazzi, tante novità e devo dire positive, quindi sono molto contento di darvi novità, anticipazioni, indiscrezioni, notizie per quanto mi riguarda positive. Partiamo però da un rapido, perché nel video di questa mattina vi dicevo che dal gruppo Spogliatoio avevano relazioni molto positive su Fonseca, poi devo capire perché una parte che magari non andava così tanto d'accordo non veniva valorizzata da Pioli. Detto questo, bene, c'è curiosità per quanto mi riguarda. Ecco, volevo per un attimo commentare la decreazione ieri sera di Tomori che parla anche lui insomma in qualche modo di cambiamento, abbiamo cambiato molto, abbiamo nuove idee, un bel clima, stiamo lavorando bene, duro e siamo eccitati adesso. Davvero stanno facendo spesso doppie sedute da un punto di vista atletico, oltre ad essere cambiati diversi fisioterapisti, è cambiato un po' anche la filosofia. E' un lavoro come si deve, ecco. E c'è soddisfazione da questo punto di vista. Li sta tenendo sotto come giusto che sia. Dobbiamo cercare di fare meglio dello scorso anno, stiamo lavorando bene, stiamo correndo tanto, però ci sta, quindi anche lui sottolinea questo aspetto. Abbiamo lavorato tanto sul pressing, su come vogliamo attaccare, difendere, costruire dal basso. Dobbiamo giocare le partite e capire come possiamo migliorare l'intensità, l'energia con la palla e senza palla. Vediamo quando giocheremo la prima partita contro il Rapid. Poi, lui ha giocato con Morata, dice un altro giocatore rispetto a Giroud, spero possa aiutarci, siamo eccitati per la nuova stagione. Ancora su Ebram sono amicissimi, forse migliori amici nel calcio. Lui e Ebram abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio, solo conversazione generale. Sì, Tomori, ce la viene a raccontare a noi. E poi ancora, insomma, altre dichiarazioni. Morata a velocità forze può fare gole a quello che ci serviva, ha giocato con lui appunto ai tempi del Chelsea e ne ha un buon ricordo. È chiaro che se non lo avesse non direbbe, a me non piace. Però, prendiamoci quello che ha detto appunto il buon Fikaio Tomori, chiamato a fare una stagione decisamente migliore rispetto a quello dello scorso anno. Poi, Rabiot annuncia, ha già annunciato, sta per annunciare la separazione ufficiale dei colori bianconeri dopo diversi anni. Si è svincolato di fatto il 30 giugno. Il Milan ha parlato con la mamma Veronique da fine maggio. Vediamo cosa succede. Dove va lui? Credo che poi la decisione sul suo futuro non sarà così lontana. Vediamo un po'. Sapete che per Rabiot io farei carte false perché è un giocatore che ha esperienza, alza il livello. Poi, a proposito di esperienza, in qualche modo potrebbe esserci una rivoluzione al Milan. Forse è targata Zlatan Ibrahimovic. Cioè l'idea dell'andare a puntare sui giocatori più fatti e finiti che sui 22-23 anni che boh punto di domanda. Sapete che io in questo momento aspetto al Varco Ibra, oggi non sono contento di quello che sta facendo. Ovviamente il giudizio verrà fatto a regime. Se questa inversione di tendenza si realizza ed è volontà di Ibra, sono felicissimo di dire bravo Ibra. Perché servono giocatori di esperienza. Quindi il Morata, il Rabiot e poi non solo. Adesso parliamo di quest'altro nome molto importante. Ha parlato poi questa mattina, la Gazzetta ha pubblicato l'intervista di Giorgio Furlani, che ovviamente presenta il colpo a Alvaro Morata come se fosse il migliore del mondo. Ognuno deve presentare i propri prodotti come se fossero i migliori del mondo. Insomma, parla di team squadra, Ibra è importante, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'aspetto che volevo commentare con voi è quello sul mercato del Milan. Sappiamo ciò che stiamo facendo e non ci facciamo distrarre da nomi e voci che circolano. La classica frase fatta che fa sentire un dirigente magari più importante, però che significa non ci facciamo distrarre dalle voci e i nomi che circolano. Boh, vabbè. Un anno fa sul mercato non siamo stati timidi, ma è chiaro che avevamo bisogno di rifare mezza squadra. No. Obiezione, vostro onore, non avevamo bisogno di rifare mezza squadra. No. Si potevano rifare mezza squadra, si poteva integrare, aggiungere. Non era necessario rifare mezza squadra, per quanto mi riguarda. Quest'anno quell'esigenza non c'è più. Obiezione. Se tu vuoi fare attaccante l'hai già fatto, centrocampista lo vuoi fare, è difensore lo vuoi fare, è terzino, siamo già a 4 su 11. Quindi è quasi metà squadra. Comunque dice, quest'anno quell'esigenza non c'è più, perché ci stiamo muovendo su obiettivi molto mirati. Molto mirati. Anche qui, gli obiettivi sono tutti mirati. C'è un obiettivo, lo miri? No, è mirato. Però vabbè, frase effetto. Centroamati l'abbiamo preso. Poi li chiedono, Samar, Cicefofana, buoni giocatori, ma non ci focalizziamo solo su un giocatore, perché non si fa così. Vediamo quali situazioni si sviluppano al meglio. Ripeto, l'estate del 2024 è molto diversa da quella del 2023. E benvenga, se prendiamo meno giocatori, sono di livello maggiore. Cosa che auspicavamo anche i giorni scorsi. Ieri dicevo, ragazzi, a parte Morata, gli altri non sono certezze di rendimento. Quindi ribadisce che dobbiamo aspettarci colpi più di alto livello, perché questo sta dicendo tra le righe. Lo scorso anno tutti del taglio del 20, no? 20 milioni, 20 milioni, 20 milioni. Quest'anno è diversa, l'ho detto più volte. Però sul modus operandi, non ci focalizziamo solo su un giocatore, perché non si fa così. Vediamo quali situazioni si sviluppano al meglio. Come dire, se non prendi uno, vai su un altro, ma un altro ancora, non lo so. Su quello che costa meno, alla fine vai. Beh, Zirze è Morata, filo logico, nesso logico, zero, perché sono giocatori molto diversi. Non ti focalizzi su un giocatore, nel senso che se non riesci a prenderlo, vai su un altro anche se è completamente diverso, ma costa meno. Eh. Però, ecco, di fatto, su Fofana non è che ci fossero bisogno di tante conferme. C'è la conferma, invece, sull'interessamento di Samardic, per Samardic, giocatore che a me piace tanto. Lo dicevo ieri, è una mia passione calcistica. E speriamo davvero che possa arrivare Samardic oppure Adrien Rabiot. Sicuramente è più facile Samardic. Però vediamo che cosa succede. E sul modo superandi, non lo so. Sono prevenuto. A me Furlani non convince. Ieri leggevo un tweet di Alessandro Giudice, editorialista del Cosport, molto esperto poi in tema di finanza, che diceva i milanisti dovrebbero fare un monumento a Furlani. Ve lo leggo, dai. E ovviamente, se qualcuno pensa diversamente, è legittimo. Ma commenti e poi veniamo a un bel nome molto importante. commenti ovviamente sempre con civiltà e con rispetto. No, quello che scriveva, perché è giusto pensieri anche diversi. Invece di scrivere fanfalucche sui social, straparare su YouTube, magari non ce la va con me, non lo so, o disertare la squadra, alcune tifosi milan dovrebbero erigere davanti ai cancelli di Milanello un monumento a Giorgio Furlani, che prima orchestrando l'operazione di finanziamento a Yonggu Lee da parte di Elliot e poi consentendo al versamento di emergenza last minute di ulteriori somme non contratualizzate, consentì al Milan di salvarsi dalla mancata iscrizione al campionato della retrocessione automatica e lega nazionale di lettanti, poiché nel 2018 era già stato abrogato il Lodo Petrucci. Questi molti non lo sanno o fingono di averlo dimenticato. Io credo che ecco, il Milan non sarebbe mai andato in altre categorie, ci sarebbe arrivato qualcun altro, Elliot dal Milan ci ha guadagnato anche con quel passaggio. In generale, ecco, il monumento no, il monumento lo facciamo a Silvio Berlusconi che ci ha fatto vincere tutto, lo facciamo a chi voleva davvero vincere e non a chi ha la calcolatrice alla mano e il palmarès in garage per quanto mi riguarda, però ripeto ognuno al proprio punto di vista il suo lo fa forse da un punto di vista anche come dire di di logiche aziendali è un passaggio stato importante però il Milan non sarebbe mai retrocesso è passato comunque qualche anno e il monumento secondo me non ha motivo ad essere detto questo torniamo a noi perché dicevamo della filosofia che potrebbe essere rivoluzionaria cioè puntare finalmente sui giocatori un po' più pronti che era bio e meno samar dice anche sia stato già qualche anno in serie A bene il nome nuovo molto buono molto interessante e per me sarebbe un enorme sì sarebbe quello di ermosso ermosso che è l'alternativa a parametro zero di Pavlovich laddove per parametro zero però non bisogna pensare che allora costa meno perché c'è l'ingaggio che è più alto di Pavlovich ci sono anche qui le solite commissioni però ecco ermosso è un giocatore che in queste ore è accostato al Milan perché ha un dialogo con Beppe Bozzo che è l'intermediario che ha curato l'operazione morata a Milan e cura gli interessi in Italia di Mario Ermoso che è di Anina 29 quindi un giocatore esperto spagnolo 1-84 che si è svincolato il 30 giugno dall'Atletico Madrid 5 presenze con la Spagna non ha avuto grande esperienze con la nazionale maggiore 185 in Liga 10 gole 5 assist 29 partite in Champions con 3 gole 1 assist insomma profilo che che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni e dettagli sono anche uno abituato a vincere che tanti anni con Simeone gli hanno trasmesso sicuramente quella componente della voglia della giusta cattiveria tanti dicono la garra l'anno scorso ha fatto 3 gole 2 assist tra l'altro in Liga sapete che io sono un fan dei gol anche se parliamo di portieri o di difensori una vita l'Atletico in cui insomma ha avuto livelli importanti da difensore centrale ma anche da terzino sinistro quindi potrebbe essere l'occasione di fare una coppia in uno nel senso che ti serve il vice Teo vai giocare l'Ermoso oltre a Gimenez però Ermoso diventa il titolare in coppia con Tomori e per me sarebbe tanta 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 roba come si dice oggi giocatore che appunto in Liga ha una mappa di calore rossissima sulla fascia sinistra anche come terzino quest'anno andiamo a vedere un po' i numeri 73 tocchi partito 87% passaggi riusciti 8 clean sheet con l'Atletico 1 intercetto a partita 1,5 takel 5,5 palle recuperate a partita 2,6 salvataggi a partita duelli vinti 55% non male di cui 59% aerei 9 gialli 0 rossi profilo che è abituato a vincere sarebbe un'altra operazione che ti alza il livello morata davanti certezza oggi pronto all'uso no rischi di ambientamento ermoso dietro cambia campionato cambia maglia ma è uno che insomma sai che cosa ti dà senza grandi dubbi magari a differenza di Pavlovich che ha un ingaggio molto più basso costa di più trovare l'accordo con i Salisburgo in questo momento non è facile perché c'è differenza il Salisburgo lo valuta a 30 al Milan 20 barano i soliti 10 milioni di euro e ermoso piaceva all'Inter Marotta lo voleva però Oktri ha detto no puntiamo giocatori giovani piace al Napoli di Antonio Conte che ha già preso però buongiorno e probabilmente andrà su un piede destro a differenza di buongiorno appunto e di ermoso io se ne sarei contentissimo e diventerebbe qualcosa di importante la difesa del Milan anche a livello di esperienza e a livello qualitativo se tutto questo arriva da Ibra e riesce a realizzarlo sono prontissimo e felice di dire bravo Ibra hai capito che andava invertito un po' la rotta perché mancavano certe qualità mediamente in questa squadra Mario Ermoso speriamo che gli ottimi rapporti con i suoi entourage con l'intermediato Beppe Bozzo con cui abbiamo fatto Alvaro Morata possa aiutare il Milan a portare a casa Mario Ermoso che preferisco Pavlovic perché è pronto subito Pavlovic magari diventerà bravissimo però è un punto di domanda mettiamo qualche punto esclamativo non soltanto dei punti di domanda vediamo che cosa succede per il centrocampo alternativo a Rabiot c'è Samardic portatemene uno dei due e sono contento più tardi avremo ovviamente altre novità sulle parole di Furlani datemi il vostro punto di vista io rimango sempre un po' così scatenatevi lasciate un bel like se volete Ermoso iscrivetevi da questa parte iscrivetevi al mio canale personale oggi stesso arriviamo a 25 mila iscritti grazie per chi lo farà e sull'home page di Milanello trovate il video podcast di Marco Van Basten se non l'avete ancora visto male siete pochi non averlo ancora visto guardatelo e non ve ne pentirete un abbraccio